I tuoi compagni non vengono. Non vedano l'ora di sbattersela. Non lo farò. Solo perché ognuno di noi potrebbe saltare in aria da un momento all'altro pensiamo di poterci permettere qualsiasi cosa. Questa faccenda può provocare uno scandalo internazionale. Te ne rendi conto? Si può inciampare all'improvviso. Lui non ti ha sparato apposta. Gli dispiace. E se fossi al posto loro sarai incazzato nero e cercherei di fartela pagare. Probabilmente a te piace l'esercito, no? Questo non è l'esercito. Non è il mio esercito, sergente. Anche in guerra l'omicidio è omicidio. Michael J. Fox, Sean Penn, vittime di guerra. Il nostro corso è un'esercito. Ma città è un'esercito. Grazie a tutti.